Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è sabato 11 febbraio 2023. 11 febbraio è una data significativa, una volta lì in Italia era festa l'11 febbraio, si festeggiavano i patti lateranensi, la riconciliazione tra Stato e Chiesa per quanto riguarda il governo della città del Vaticano, che ha così confermato la sua autonomia. Ma ormai sono tempi passati, noi guardiamo alle notizie di oggi con la rassegna stampa, come sempre sfogliando i giornali, il resto del Carlino e il Corriere Adriatico. Passiamo con l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi. Non è un santo ma è un evento, ovvero l'apparizione della Beata Vergine di Lourdes, un fatto veramente che ha segnato la nostra epoca, l'epoca contemporanea. Era l'11 febbraio del 1858. La Vergine apparve a Bernadette nella grotta di Massabiel a Lourdes. Io sono l'Immacolata Concezione, disse. Ed allora fu tutto un fiorire di miracoli, di devozione. Oggi più che mai il luogo è oggetto di pellegrinaggi da tutto il mondo. La Beata Vergine di Lourdes. Le previsioni del tempo. Vediamo che l'alta pressione continua a governare le condizioni atmosferiche sulle Marche. Sabato è all'insegna del bel tempo su tutta la regione, con cielo sereno o al più localmente velato dal pomeriggio. Il clima è freddo, ci saranno delle gelate, perché quando il cielo è sgombro di nubi la temperatura si abbassa notevolmente. Vediamo che la minima sarà di un grado, la massima salirà fino a nove gradi. I venti spireranno sulle coste da ovest, nell'interno invece da sud-ovest il mare continua a essere mosso. Ed ora apriamo i giornali a partire dal resto del Carlino, questa mattina sulla pagina di Fano. E vediamo che si parla del Waterfront, ecco qua il titolo. Progetto Waterfront, così cambierà la zona sud. Perché si parla oggi del progetto Waterfront, che è già stato illustrato ampiamente sulle pagine dei giornali. Si parla del Waterfront perché la Giunta ha approvato il progetto di fattibilità economica, anche dell'intervento che verrà attuato sia nella zona di Sassonia che nella zona di Torrette. Progetto Waterfront, così cambierà la zona sud. Uno studio rivoluzionario, dice il resto del Carlino. L'area diventerà lo spazio dedicato all'attività fisica e sportiva e poi eventi, fiere, parco naturalistico che cambierà radicalmente l'immagine del lungomare, sia di Sassonia nei pressi dell'anfiteatro Rastat che nella zona di Torrette. I principi ispiratori sono quelli della socialità, del benessere e della qualità della vita. Eventi e manifestazioni da proporre tutto l'anno in questi luoghi. Attività sportive legate al mare, creazione di un parco naturalistico didattico, aree per ospitare mercati e fiere dell'artigianato e poi un parco pubblico attrezzato. Sono queste le proposte per ridisegnare soprattutto Fano Sud, la zona di Torrette che ha una vocazione turistica veramente forte e che si propaga poi anche per il centro storico di Fano. Insomma, la zona di Torrette a sud non è solo un centro di attrazione per la località stessa, ma lo è anche per tutto il nostro comune. L'altro articolo che figura in prima pagina sul resto del Calino riguarda un ponte in degrado. È un ponte, è una passarella che si trova a Bellocchi. Sistemate il ponte di Bellocchi e l'appello che appare sul titolo. Lo vediamo qui in questa fotografia come è dissestato. Ci sono veramente delle assi fuori sito. È passato un anno dall'ultima segnalazione, ma nulla è stato fatto per riproporre la sicurezza su questo passaggio. Si tratta di un ponte, la pedana ha perso due assi lasciando un buco nel quale potrebbe finirci addirittura una persona dentro. Sotto altro che lo scricchiolio. Qui veramente c'è un buco da riparare e non è stato fatto. È bene a richiamare l'attenzione dell'amministrazione comunale e una cittadina. Si tratta di Romina Bucchi che propone questa segnalazione e chiede appunto all'amministrazione comunale di intervenire al più presto. Bella questa pagina curata dal resto del Calino. Per quanto riguarda il veglione dei bambini che si è svolto nell'ambito di tutte le iniziative del Carnevale di Fano. Un veglione dei bambini che rievoca gli antichi veglioni che venivano organizzati dall'ente carnevalesca e che quest'anno vengono riproposti non solo dopo i due anni di pandemia, ma anche dopo anni e anni che questa cosa non si faceva con la dovuta rilevanza. Pure una volta era uno degli eventi più importanti dell'iniziativa carnevalesca. si svolgeva al Politeama e richiamava tante tante persone. Ora l'iniziativa si è svolta invece nel ristorante mediterraneo tra Fano e Fosso 6 ore. Se il Carnevale ha il colore dei più piccini, intitola il resto del Calino. Un centinaio di bambini in maschera accompagnati da mamma e papà hanno partecipato entusiasti al ritorno del veglione. Un ritorno che è stato valutato con tanta allegria, con tanta soddisfazione, sia dalle famiglie che dai bambini. E c'erano tante tante mascherine ieri a partecipare a questa iniziativa. Tra loro c'erano tantissimi supereroi della Marvel, tante mercoledì Adams, le maschere più gettonate tra i bambini. E poi non sono mancate principesse, sirene, poliziotti oppure animaletti, draghetti. Ma alla fine a vincere i premi sono stati alcuni piccolissimi che hanno veramente sorpreso la giuria. Si tratta di Mascia, al secolo Chiara, due anni da compiere, il prossimo 19 febbraio, è la più piccola partecipante dell'eveglione. La vediamo qui in questa fotografia. Beh, la fotografia ha dei colori un po' sbiaditi, non rende giustizia veramente alla bellezza di queste maschere, però con uno sforzo di immaginazione la si può valutare per quello che vale. Secondo posto per un astronauta perché è in tema con l'edizione di quest'anno. Infatti vediamo che il Carnevale di Fano è stato sponsorizzato dall'ASI, ovvero dall'Agenzia Spaziale Italiana. E proprio oggi pomeriggio ci sarà l'astronauta Paolo Nespoli, che interverrà con il maestro Pistoletto insomma per così dare il significato, dare valore al Carnevale di Fano, il cui pupo, lo ricordiamo, ritrae Samantha Cristoforetti, la donna che è andata sullo spazio per oltre sei mesi per la seconda volta. E poi vediamo ancora, ci sono anche altre mascherine, abbiamo qui un personaggio dei cartoni animati, insomma vediamo che questi ragazzini si sono tanto tanto divertiti, tra loro anche tante iniziative di intrattenimento nell'ambito del veglione, ci sono state animazioni, musica, ebbene, e tante tante mascherate. Vediamo le altre notizie. C'è una prima revisione per la card turismo. Ieri si sono di nuovo incontrati gli albergatori con l'amministrazione comunale, questa volta era presente anche il sindaco. Sappiamo che gli albergatori protestano per l'aumento della tassa di soggiorno, una tassa che non è a carico loro ma è a carico dei clienti, però insomma poi bene o male si riverbera in maniera così impattante sul turismo e il sindaco ha promesso che qualche revisione verrà fatta. Il giornale non indica che cosa cambierà, però il sindaco ha dato compito al dirigente di cercare di conciliare le istanze che evidenziano gli albergatori. Sappiamo che la tassa di soggiorno è stata quasi raddoppiata in cambio di una card che consente ai turisti di accedere gratuitamente a molti servizi, in modo particolare ai servizi di ordine culturale come la visita al Museo Civico, a quello della Via Flaminia e poi anche a salire sui mezzi pubblici gratuitamente con uno sconto invece con i taxi per quelli che frequentano le strutture ricettive di Torrette, Ponte Sasso, insomma quelli a sud del fiume Metauro. Un maxicorteo per dire no al biodigestore, lo si sta preparando a terre roveresche, sale la protesta contro l'insegnamento di questo impianto che la popolazione residente non vuole assolutamente. Un maxicorteo per ribadire il no al biodigestore di barchi per domenica 5 marzo, appena tre giorni prima che ci sarà l'udienza rispetto al TAR dove i residenti hanno fatto ricorso per annullare appunto la decisione. La decisione è assunta da Feronia, una ditta privata che vuole insediare appunto questo grande impianto di biodigestione anaerobica in quel di barchi. Lo slogan scelto dai promotori è mobilitiamoci, non siamo la patumiera d'Italia. L'iniziativa partirà alle 15 in punto dal piazzale della struttura sportiva di barchi Pala Simone e da qui cammineremo, ha detto il Mauro Biagioli, del direttivo del comitato di protesta, cammineremo fino al sito dove dovrebbe nascere il biodigestore, quindi un corteo di protesta. Invece a Marotta si realizza un maxiparcheggio lungo la statale, lo annuncia il sindaco Barbieri. Si tratta di un intervento che richiederà del tempo, ma intanto è un passo importante è stato fatto in una posizione strategica. Andrà ad aggiungersi questa grande area di sosta ad un parcheggio già realizzato nel 2018 nei pressi della stazione ferroviaria. Obiettivo? Terminarlo per l'inizio della stagione 2024. Quindi una nuova struttura a servizio della mobilità motorizzata. A Urbino invece si parla di sanità, si parla di sanità perché l'ospedale è stato fatto visita dell'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini che ha incontrato i primari dell'ospedale. Sull'ospedale Saltamartini sta tranquillizzando tutti. Urbino ha detto rimarrà una struttura strategica di primo livello. Risolveremo quanto prima le carenze del personale che sono veramente il problema fondante della sanità territoriale. Oltre due ore per presentare la nuova organizzazione dell'Ast ovvero dell'azienda sanitaria territoriale che Saltamartini ha illustrato appunto ai primari, agli operatori dell'ospedale di Urbino evidenziando il passaggio tra l'azienda ospedaliera di Marche Nord all'azienda sanitaria territoriale che si occuperà contemporaneamente sia degli ospedali che degli ambulatori territoriali. Giriamo ancora la pagina sul resto del Carlino e vediamo come anche ad Urbino si parli di parcheggi. Parcheggi PD e Viva Urbino all'attacco hanno trasformato la città in un grande stallo a pagamento. c'è una protesta per la realizzazione di un nuovo parcheggio a pagamento per 12 ore. Si tratta di un parcheggio del parcheggio De Angelis che è stato fatto a pagamento come già annunciato dal sindaco e per questo appunto l'opposizione che fa capo ai gruppi del Partito Democratico e a Viva Urbino sono i due gruppi di minoranza in consiglio comunale hanno presentato una interrogazione insomma basta con il parcheggio a pagamento perché secondo l'opposizione l'amministrazione comunale facendo questo non vuol far altro che fare cassa insomma non è proprio indispensabile fare pagare una tassa per una sosta di auto. Invece a Sasso Corvaro a Sasso Corvaro si parla di innamorati si parla di innamorati perché tra non molto sarà la festa di San Valentino ebbene a Sasso Corvaro vengono custodite delle reliquie di San Valentino e grazie a questo viene organizzata una serie di manifestazioni che prenderà il via domenica 12 febbraio quindi domani con lo spettacolo una rocca di amore alla rocca ubaldinesca alle ore 17 e chi non ha visto la rocca ubaldinesca di Sasso Corvaro vi consiglio di andarla a vedere perché è uno dei presidi malatestiani più belli del nostro territorio a forma di tartaruga è uno dei castelli che ricorda il Medioevo nel suo splendore ho scelto la mia terra così do lavoro ai giovani parla così Enrico Cancellieri che coltiva assieme alla sua famiglia grani, fer, farro e legumi ogni giorno da Pesaro a Mercatale la nostra azienda esporta nel mondo ebbene è un'azienda agricola che produce delle eccellenze ceci, lenticchie e farro con pregiate qualità organolettiche apprezzate in Europa e negli Stati Uniti e vediamo qui in questa fotografia la famiglia che si dedica alla gestione di questa azienda vediamo anche parliamo anche di neve perché insomma anche se il cielo è sereno il freddo nelle nostre montagne ha fatto sì che tutto il territorio si coprisse di bianco vai con la neve e su Catria e Nerone si scia a tutta a tutta forza anche sul Carpegna le ultime precipitazioni hanno portato altra manna per gli appassionati ma soprattutto per gli operatori non solo impianti anche ciaspolate che chi non vuole sciare con in discesa per quanto riguarda appunto questo sport questa passione può camminare con le ciaspole e fare delle belle passeggiate l'importante è coprirsi molto molto bene perché poi il freddo fa degli scherzi che non sono graditi a tutti anche per i bambini tante sono le strutture dedicate ai più piccoli disponibili in noleggi per tutte le attrezzature vediamo ora il Corriere Adriatico il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano apre con le indennità che spettano agli amministratori comunali nella fattispecie alla giunta fanese e vediamo che ci sono degli aumenti dobbiamo dire che gli stipendi chiamiamoli così sono delle indennità di funzione che spettano agli amministratori comunali non sono almeno fino a poco tempo fa non erano alla pari degli stipendi che percepivano i consiglieri regionali la giunta regionale i parlamentari eccetera erano un po' i pari a delle amministrazioni comunali grandi responsabilità un grande impegno e pochi stipendi in realtà adesso invece le cose si stanno adeguando e vediamo che anche la giunta fanese ha avuto degli aumenti di stipendio aumenti che sono abbastanza sensibili vediamo si è partiti da un compenso per la carica di sindaco di 3.904,41 euro al mese questa era la base di partenza dal primo gennaio del 2022 cioè dall'anno scorso l'importo è salito a 4.941,93 euro insomma c'è stato un incremento di 1.000 euro ma questo non basta perché dal primo gennaio del 2024 quindi dal prossimo anno l'emunumento del sindaco passerà a 6.210 euro al mese sono importi lordi ovviamente non prendono questa cifra poi cash voglio dire in contanti alla fine del mese però insomma comincia a essere una cifra importante e vediamo che questi aumenti si riverberano anche negli altri amministratori per esempio il vice sindaco prende il 75% dell'indenità del sindaco mentre gli assessori prendono il 60% del sindaco per esempio il vice sindaco prenderà prenderà a partire dal primo gennaio del 2024 4.657,50 centesimi al mese ora ne prende a partire dal primo gennaio 2022 3.706 prima ne prendeva anteriormente al primo gennaio 2022 2.928 euro invece i consiglieri comunali i consiglieri comunali continuano a prendere un gettone che veramente insomma è un gettone così di di apparenza di circostanza 34,16 centesimi a seduta le sedute non sono molte in un anno sono circa 18 17 18 sedute del consiglio comunale quello che incrementa un pochino è la partecipazione alle commissioni consigliari comunque non ci si fa ricchi diventando consiglieri comunali anzi chi ha un'attività privata probabilmente perde molto del tempo che dovrebbe dedicare al suo lavoro invece lo dedica per il governo della città quindi questo bisogna riconoscerlo poi ci sono ovviamente quelli più attivi quelli meno attivi lo sappiamo e lo vedremo poi con le presenze del consiglio comunale oggi è una giornata particolare perché si festeggia si celebra anzi la giornata mondiale della radio è una giornata che festeggia anche Fano anzi la festeggiano i radioamatori i soci della associazione radioamatori italiani che nel pomeriggio di oggi alle ore 17 nella sala riunioni della ditta New Copromo organizzano un convegno si parlerà dell'attività dei radioamatori ma si parlerà anche dell'attività delle radio libere che dal 1976 ovvero da quando la Costituzione ha abrogato il monopolio della RAI quindi ha reso accessibili le trasmissioni radio via etere anche da parte dei privati a Fano erano sorte tre radio Radio Fano Radio Esmeralda e Radio Venere due di queste sono ancora attive oggi quindi vedete come la persistenza è importante la sopravvivenza è importante perché perché fanno informazione ma aiutano anche il commercio perché vivono appunto di promozione di pubblicità ma allo stesso tempo aiutano anche ai negozi le attività commerciali le aziende a farsi conoscere e quindi si parlerà anche dei tempi eroici delle radio libere e ovviamente anche dei tempi attuali e dei radioamatori e siccome il tema di quest'anno è Radio e Pace un tema ovviamente che è attualissimo verrà anche diramato un messaggio con il linguaggio Morse verso l'Europa dell'Est verso l'Ucraina verso la Russia insomma per invitare i due contendenti alla pace è un atto significativo che evidenzia appunto il desiderio di tutti noi per cercare di salvare il salvabile Parco i lavori paralizzati dai rifiuti trovati nell'area ebbene il parco dell'aeroporto è stato paralizzato non solo dai rifiuti trovati nell'area ma dalle lungaggini che la ditta che deve fare i lavori ha osservato c'è stata questa nuova interrogazione del capogruppo della lista civica in comune Carla Luzzi che nella prossima seduta del Consiglio Comunale porterà alla ribalta ancora una volta i lavori del parco ma l'assessore Brunori ha già detto che i lavori sono incominciati si stanno svolgendo si stanno valgendo in tre fasi in tre località dell'aeroporto si sta realizzando una pista ciclabile sono stati già realizzati i lampioni quindi l'illuminazione c'è anche poi un'area dedicata a salotto con sedute con elementi di arredo e poi un nuovo collegamento con via con falonieri insomma si sta già attivando in modo particolare quindi l'assessore Brunori è riuscita a fare riprendere questi lavori che stazionavano da tempo insomma non è facile il rapporto con le ditte abbiamo visto come molte ditte hanno creato problemi vi ricordiamo quello che è accaduto per esempio di fronte ai bagni Carlo dove la ditta aveva abbandonato i lavori insomma ci sono diversi poi i problemi che hanno coinvolto anche la passeggiata della Darsena Borghese insomma ci sono problemi non facili da risolvere con chi vince le gare di appalto ex convinto accessi da murare ma serve un'ordinanza del sindaco parlano Tarsi e per Paoli sono due consiglieri comunali di Fratelli d'Italia che chiedono una misura radicale ovvero quella di murare tutti gli accessi del Vittoria Colonna per impedire l'ingresso a persone indesiderate agli abusivi ovviamente questo dovrebbe farlo non l'amministrazione comunale dovrebbe limitarsi a emettere una ordinanza dovrebbe farlo invece la proprietà del grande complesso che invece di chiudere questo dovrebbe riaprirlo e ridargli una funzione per eliminare definitivamente il problema comunque Fratelli d'Italia insiste su questa questione di ordine pubblico vediamo ora anche un articolo che interessa Senigaglia un cartello fantasma un'auto contro mano ogni giorno si rischia un frontale in realtà non solo un'auto contro mano ma sembra che in questo passaggio si tratta del passaggio in via 20 Settembre sul punte Angeli dove c'è un senso vietato un senso che viene derogato quasi abitualmente dai veicoli e c'è il rischio di creare seri incidenti ecco perché occorre intervenire per ripristinare una segnaletica più evidente e soprattutto anche dei controlli più stabili per evitare poi che si verificano dei problemi vediamo anche quello che accade a Mondolfo a Mondolfo si insedia un laboratorio di chirurgia in realtà nel comune di Mondolfo perché il laboratorio poi si sposta a Marotta già attivato dall'equip di Pergola operativo un nuovo modello di sanità quello della AST di cui abbiamo detto dell'azienda sanitaria territoriale che costituisce un laboratorio di chirurgia a Marotta un importante punto di riferimento appunto per chi ha bisogno di piccole operazioni ne parla il primario Gamma Rota diagnosi e medicazioni sotto casa beh finalmente il modello della medicina della sanità territoriale almeno questo lo fa funzionare utilizzato il laser in proctologia ci sarà anche lo specialista di ricostruzione plastica per quanto riguarda le ferite che verranno fatte e poi anche il Corriere Adriatico evidenzia il grande parcheggio annunciato dal sindaco Barbieri lungo la statale Adriatica lo realizzerà il comune dopo l'acquisto del terreno all'asta per 76 mila euro ma ci vorranno ancora alcuni ci vorrà ancora del tempo prima che venga realizzato vediamo anche qualche notizia di Pesaro la leggiamo sulle Corriere Adriatico dove si parla di Villa San Martino uno dei quartieri più popolosi del capoluogo un freno alle auto che corrono troppo Belloni l'assessore spiega l'intervento in corso tra via Paganini e l'area di via Toscana una rotatoria fissa luci e careggiata più stretta per evitare appunto che le auto corrino troppo lavori conclusi a fino aprile è l'operazione che rientra nel progetto zero semafori ovvero quello di realizzare delle rotatorie al posto dei semafori il comune rende definitive le rotatorie della statale 16 in via Milano e di Villa San Martino in via Paganini l'elenco poi comprende Largo Tre Martiri via Ponchielli via Solferino via Gagarin via San Marino via Mameli via Del Monaco via Belvedere Largo Madonna di Loreto e Borgo Santa Maria ancora provvisorie invece sono le rotatorie di Catabrighe della rotonda di strada Montefeltro case bruciate queste devono essere ancora sperimentate a dovere ebbene con questa notizia possiamo chiudere la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento a lunedì prossimo alle ore 7 Massimo Foghetti vi augura un buon weekend un buon carnevale e noi appunto ci risentiremo tra due giorni grazie per l'ascolto a risentirci grazie per l'ascolto